ciao amici ecco qui un quiz per voi è trasparente è anti age è antiossidante aumenta le performance fa bella la pelle i capelli da energia fa dimagrire è detox e si beve che cos'è è l'elisir di lunga vita what else in realtà è una bevanda di madre natura io l'ho scoperta tempo fa e oggi ve ne voglio parlare così la potrete scoprire anche voi siete curiosi allora mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video allora l'elisir di lunga vita più naturale che ci sia al mondo si chiama acqua di cocco ho già parlato di alcuni dei suoi benefici in questo video e siccome nei commenti in tanti mi avevate chiesto consigliaci un buon prodotto e te lo chiediamo anche oggi certo mi sono organizzata e ho trovato un acqua di cocco buona sana e di produzione sicura e con una sorpresa in più ho scelto l'acqua di cocco della food spring che sponsorizza il video di oggi questa acqua di cocco si chiama cocco way perché è un tocco speciale la sorpresa in più ma se è una bevanda dolcissima al contrario niente zuccheri niente additivi in questa acqua di cocco l'acqua di cocco è già un suo sapore particolare al naturale è un po dolce un po salato perché contiene tantissimi minerali come magnesio manganese potassio calcio sodio è ricca di vitamine tra cui la vitamina c enzimi vitali e contiene addirittura proteine proteine già ed è qui che cocco way della food spring diventa speciale ma prima di scoprire perché iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche e abbonatevi per sostenere la vita del canale e accedere a contenuti e omaggi esclusivi ogni mese grazie oltre alle proteine naturali dell'acqua di cocco cocco way contiene proteine food spring le stesse che troviamo nello shape shake o nelle polveri proteiche per un totale di 20 grammi di proteine per ogni brick di succo l'acqua di cocco è una bevanda naturalmente isotonica per questo si sposa così bene con le proteine in polvere iso che isotonico è un liquido che contiene sali minerali e sostanze proteiche e ha caratteristiche chimiche simili al plasma del sangue per esempio le flebo degli ospedali sono soluzioni isotoniche ci facciamo una flebo di cocco ma non serve con il brick della food spring te la porti ovunque occupa poco spazio ma è super nutriente cocco way è perfetta dopo lo yoga dopo la palestra come ricarica di energia in ufficio se è una giornata molto calda e abbiamo sudato tanto se abbiamo un calo di zuccheri o come prima colazione o spuntino tra un pasto e l'altro in vista dell'estate è perfetta in città o in vacanza come salvavita quando abbiamo bisogno di una ricarica veloce ma leggera rinfrescante ma sana dolce golosa ma amica della linea insomma sostiene le performance e la forma fisica ed è anche buonissima buonissima cosa volere di più è lo sconto certo ai miei followers la food spring fa sempre lo sconto del 15 per cento dovete andare sul sito della food spring usando i link i miei link quelli che trovate nella descrizione del video dal mobile la descrizione si apre cliccando sul titolo del video o sulla freccina a fianco quando siete sul sito fate i vostri acquisti e poi usate il codice sconto vignali piccolo yt grande così risparmiato il 15 per cento comunque in descrizione ho spiegato come fare passo dopo passo ora condividete questo video l'acqua di cocco cocco way è un'ottima soluzione per stare in forma è per sostituire quei terribili e finti energy drink industriali quando l'avrete bevuta fatela assaggiare ai vostri amici e poi fategli vedere questo video così ne sapranno un po di più anche loro e avranno lo sconto puoi assaggiare buonissimo assaggio io noi ci vediamo al prossimo video nel frattempo ma sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao ciao amici ciao amici